Ultimi giorni anche per la provincia di Gorizia per la sua esistenza e anche ultime consegne dei lavori fatti. È toccato a Monfalcone questa mattina in Biabonavia dove si è tenuta l'inaugurazione del rinnovato auditorium del liceo scientifico Isis Buonarotti. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente della provincia Enrico Gerghetta, l'assessore provinciale ai lavori pubblici Donatella Gironcoli e la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint. Come vedete dalle immagini l'auditorium sufficientemente grande ad ospitare buona parte degli studenti che frequentano l'istituto. È un punto dove si potranno organizzare dibattiti, incontri ma anche approfondire temi di vita scolastica e non solo. L'appuntamento ha visto la presenza anche di numerosi studenti dell'istituto.